Ciao a tutti ragazzi, allora fine del 2017 ho qualcosa da dirvi sì, è stato un anno fantastico in un paio di mesi abbiamo creato qualcosa di per me assurdo, c'è la pagina facebook, il canale youtube su instagram siete sempre di più, quindi prima di tutto io vorrei dirvi grazie di questo ho deciso di iniziare questi video perché il 2018 sarà un anno pieno di roba ci saranno collaborazioni con cantanti, youtubers, ci sarà il tour che è in fase di organizzazione ci saranno gli incontri con voi in giro per l'italia, gli inediti, quindi mi sembrava riduttivo tenervi aggiornati soltanto attraverso i post, ho deciso di iniziare questa serie, questa piccola serie di video ovviamente i video delle cover il giovedì alle 21 non mancheranno mai, mai ho deciso di chiamare questa serie linguaccia, per chi mi segue non penso ci sia bisogno di spiegare il motivo comunque a parte di tutto spero che l'idea vi piaccia, ci vediamo al prossimo video allora ciao